Ciao, io sono Alberto Olla e mi occupo di programmazione da oltre 15 anni e oggi ho un regalo per te. Sono riuscito a convincere l'autore di questo corso SQL, l'unico corso d'Italia dedicato a chi vuole trovare lavoro che in sole 8 settimane ti fa diventare un mago delle SQL, a concedermi il permesso di pubblicare gratuitamente le prime lezioni del corso. Infatti le lezioni che stai per vedere sono soltanto alcune delle lezioni delle 8 settimane, nello specifico sono soltanto queste della settimana 1 parte 1. Quindi mettiti comodo e buone sequelle! Ciao, sono Robert Sand e in questa lezione facciamo una veloce panoramica sui database, cosa sono, come si usano. Iniziamo! Partiamo dalle basi. Un database è un insieme di dati che sono stati salvati in un formato che può essere letto facilmente. Per gestire i nostri database usiamo un software chiamato Database Management System o DBMS. Essenzialmente noi ci colleghiamo ad un DBMS e gli chiediamo di eseguire le istruzioni per recuperare o modificare i dati. Queste istruzioni vengono chiamate Query. Il DBMS eseguirà le nostre istruzioni e ci restituirà il risultato. Ora, devi sapere che esistono tantissimi DBMS diversi. Tuttavia, possiamo dividerli in due famiglie, Database Relazionali e Database Non Relazionali, chiamati anche NoSQL. Nei database relazionali salviamo i dati in tabelle che sono collegate le une alle altre tramite delle relazioni. Per questo motivo chiamiamo i database di questo tipo relazionali. Ogni tabella contiene i dati di un'entità specifica. Ad esempio, se pensiamo al database di un'azienda, nella tabella clienti saranno presenti tutti i dati dei clienti. Il cliente può fare degli ordini, un ordine contiene uno o più prodotti e così via. Dunque, avremo anche tabelle, ordini e prodotti con tutte le relative informazioni memorizzate. Per interrogare questo tipo di database relazionali, si usa il linguaggio chiamato SQL. Questo linguaggio è fondamentale. Ci serve per far eseguire delle azioni, tra cui recuperare dei dati, eliminarli e modificarli. Nel mercato esistono tantissimi DBMS relazionali. Alcuni sono molto famosi come MySQL, SQL Server di Microsoft e Oracle, ma ce ne sono tanti altri. Tutti hanno una caratteristica comune, parlano la stessa lingua, ovvero il linguaggio SQL. Ovviamente, ognuno ha delle caratteristiche o funzioni che lo contraddistinguono, ma tutti si basano sullo standard SQL, quindi, se impari a scrivere codici con questo linguaggio, non avrai difficoltà ad utilizzare i database relazionali nel 99,9% dei casi. In questo corso, ci concentreremo sul DBMS chiamato MySQL, semplicemente perché non solo è open source, ma è anche il più popolare al mondo. Detto questo, parliamo anche dei database non relazionali o NoSQL. Questo genere di database sono diversi dai database relazionali, in quanto nella maggior parte dei casi non usano né le tabelle né le relazioni. Inoltre, possono essere molto diversi anche tra di loro. Sui database non relazionali ci sarebbe da parlare tantissimo, magari lo faremo in qualche altro corso, ma la cosa importante che devi sapere adesso è solo una. Solitamente questo genere di database non capisce il linguaggio SQL. Ci sono alcune piccole eccezioni, ma di base non puoi eseguire query SQL nei database non relazionali. Infatti, ciascuno ha il suo linguaggio o un suo modo per eseguire le interrogazioni e capisce solo quello. Bene, noi in questo corso ci concentreremo sul linguaggio SQL comune a tutti DBMS relazionali. Nello specifico, andremo ad utilizzare MySQL per eseguire le nostre query. Bene, in questa lezione vediamo come installare MySQL su sistema operativo Windows. Se tu usi un altro sistema operativo, puoi benissimo saltare questo video. Come prima cosa, apri il tuo browser e vai sul sito mysql.com. Cerca la pagina dei download. Eccola qui. Scorri fino in fondo. Noi useremo la Community Edition di MySQL, questo perché è totalmente gratuita. Bene, seleziona MySQL Community Server. E scorri verso il basso. Qui dovresti vedere qualcosa del genere MySQL Installer per Windows. Questo è il file consigliato per installare MySQL su Windows. Cliccalo. Scorri verso il basso e scarica il primo installer, cioè questo qui. Bene, qui diciamo no grazie, avvia il mio download. Altrimenti ti costringerà a creare un account e accedere, ma non è necessario per seguire questo corso. Salviamo questo file sul nostro computer e quando il download è finito, possiamo finalmente eseguirlo. Perfetto. Avviamo la procedura guidata per installare MySQL Server sul nostro computer. In realtà è molto semplice. Tutto ciò che dobbiamo fare è cliccare su Avanti. Dovrai fare attenzione nella creazione di una password per l'amministratore del nostro database server. Adesso ti faccio vedere. Come tipo di configurazione useremo l'impostazione predefinita per gli sviluppatori. Andiamo avanti. Adesso, nel mio caso, mostra questo avviso. Potresti vederlo anche tu, oppure no. Non è così importante. Essenzialmente ci segnala che il nostro programma necessita di Python, ma io non ho Python installato su questa macchina. Andiamo avanti. Clicca qui e attendiamo. Ecco tutti i prodotti che verranno installati. Questo è il server MySQL vero e proprio. Quest'altro, invece, è il WorkBranch, ovvero uno strumento grafico che useremo per connetterci al nostro server e per gestire i nostri database. Lo vedremo tra pochissimo. Bene, clicchiamo su Esegui e aspettiamo. Ci possono volere 5 o 10 minuti. Eccoci qui. Tutti i prodotti sono stati installati con successo. Ottimo! Andiamo avanti. Andiamo ancora avanti. Qui, invece, ci parla del network. Anche qui non devi fare nulla. Lascia tutte le impostazioni predefinite e andiamo avanti. Ok. Andiamo ancora avanti. Ed eccoci ad un punto importante. Qui, dobbiamo impostare una password per l'utente amministratore nel nostro database, che viene chiamato anche utente root. Questa password non c'entra nulla con la password del tuo account personale che usi quando accendi il computer. Questa password è totalmente diversa e servirà per accedere al tuo database server. Digita quindi la password che vuoi impostare all'utente root. Ti consiglio di memorizzare o scrivere da qualche parte questa password perché ci servirà tra poco e potrebbe servirti anche in futuro. Detto questo, andiamo avanti. Lasciamo tutte le impostazioni predefinite e fai clic su avanti. Clicca qui e attendiamo. E qui. Fine. Lo so, ci sono tanti passaggi, ma abbiamo quasi finito. Seguimi ancora per qualche clic. Ora, in questa schermata, ci guida per connetterci al server che abbiamo appena installato. Poco fa hai inserito la password per l'utente amministratore, chiamato anche root, e qui devi semplicemente reinserirla. Se non te la ricordi, guarda il foglietto di carta dove te la sei appuntata. Clicchiamo su Controlla. Ok. Ci siamo connessi con successo al nostro server MySQL sulla macchina locale, ovvero sul server che abbiamo appena installato nel nostro PC. Se la tua connessione dovesse fallire, vuol dire che hai inserito male i dati, ad esempio la password, quindi ti invito a riprovare. Se anche dopo aver riprovato continua a non funzionare, allora ti consiglio di disinstallare il programma che abbiamo installato assieme e rieseguire il video dall'inizio facendo più attenzione. Se invece non hai avuto problemi, puoi cliccare avanti. Clicca qui su Esegui. E siamo arrivati all'ultimo step. Dopo aver cliccato su questo tastino, ci verranno aperti due programmi. Uno è MySQL WorkBranch, ovvero lo strumento grafico che useremo per gestire i nostri database, mentre l'altro è un terminale direttamente collegato al nostro server MySQL. Tocca quindi fine. Ah, che liberazione! L'installazione è conclusa. Ora, questo qui prende il nome di terminale o prompt dei comandi. Qui dentro possiamo digitare delle istruzioni per il nostro server MySQL. In questo corso però noi non lo useremo. Volevo giusto fartelo vedere e farti sapere che esiste. Quello che useremo noi è invece questo strumento, dove possiamo fare le stesse identiche cose che facciamo nel terminale, ma non abbiamo bisogno di scrivere i comandi a mano. Possiamo invece usare questa bellissima interfaccia. Questo programma si chiama MySQL WorkBranch. È la prima volta che lo apri, dovresti vedere che esiste già una connessione. Questa qui. Se non la vedi, non c'è problema. Tanto adesso ti mostro come crearla. Clicca su quest'icona più. Assegniamo un nome a questa connessione, ad esempio Local Instance, ovvero istanza locale, e tutto il resto lo lasciamo così com'è. Clicca su Story Involved e inserisci la password dell'utente root, ovvero l'utente amministratore del nostro database, esattamente quella che abbiamo inserito prima. Ora, fai clic su Test connessione. Fantastico! Se ti appare un messaggio come questo, vuol dire che hai fatto tutto correttamente, altrimenti assicurati di aver inserito la password corretta. Se non dovesse funzionare, disinstalla il programma e prova a rieseguire tutti gli step dall'inizio, facendo attenzione a memorizzare la password. Andiamo avanti. Fai clic su OK e facciamo clic su questa connessione per connetterci al nostro database. Ecco qui. Questa è l'interfaccia che utilizzerai durante il corso. Sul lato sinistro abbiamo il pannello di navigazione, mentre al centro l'editor delle query che, volendo, possiamo ridimensionare. Sarà proprio qui che andremo a scrivere le nostre query con il linguaggio SQL. In questo lato destro abbiamo delle notazioni, che vedremo con calma. Bene! Abbiamo finito con l'installazione di MySQL sul nostro computer Windows, quindi sei pronto per procedere con le prossime lezioni. In questa lezione ti seguirò passo passo nell'installazione di MySQL sul sistema operativo Mac. Se usi Windows o Linux, puoi ovviamente saltare questa lezione. La prima cosa da fare è aprire il browser e andare su mysql.com. Vai alla pagina del download. Scorri fino in fondo. Qui dovresti vedere l'edizione Community di MySQL che è assolutamente gratuita e la useremo durante questo corso. Andiamo avanti. Ora, su questa pagina, fai clic su MySQL Community Server e dopodiché dovresti vedere le versioni disponibili per macOS. Quest'elenco viene spesso aggiornato. Quindi, se tu lo vedi diverso da quello che vedo io, stai tranquillo o stai tranquilla. È normale. Bene! Ora scarica il primo elemento, ovvero l'archivio DMG. Ora, fai clic qui su No grazie e avvia il download. Bene! Come puoi vedere, stai scaricando un file DMG, che è fondamentalmente un file di installazione. Attendiamo. Ora, il DMG è stato scaricato. Quindi, apriamolo facendo doppio clic sull'icona. A questo punto, si avvierà la procedura guidata di installazione, che è abbastanza facile da seguire. Fai semplicemente clic su Continua. Ancora. Accetta il contratto di licenza e installa MySQL. Chiederà la tua password, cioè la password da utilizzare per accedere al tuo computer. Quindi, inserisci la tua. Perfetto! Qui, invece, dobbiamo impostare una password per l'utente amministratore del database, chiamato anche Utente Root. Quindi, fai clic su Avanti e, in questa casella, digita una password. Mi raccomando, memorizza o segnati da qualche parte la password che stai scrivendo, perché ci servirà tra poco e così non te la scorderai. Bene. Ora finiamo l'installazione e inseriamo ancora una volta la password del nostro computer, quella che usi per avviare il tuo Mac. e abbiamo finito. Beh, fin qui è stato facile. Non abbiamo ancora finito. Per adesso abbiamo installato solo MySQL Community Server, ovvero un programma che ospita i database all'interno del nostro computer. ma questo programma non ha una sua interfaccia grafica. Cioè, non possiamo vederlo. Infatti, in questo momento, il database server è attivo sul tuo computer, ma noi non lo possiamo vedere. Quindi, quello che ci serve ora è un programma visuale, con cui possiamo interagire con il server e gestire i database tramite un'interfaccia. Quindi, torna alla pagina dei download. Come sempre, scorri fino in fondo e vai a MySQL Community Edition. In questa pagina, nascosto da qualche parte, dovresti vedere MySQL Work Branch. Questa è un'interfaccia grafica fantastica che ci consente di connetterci al nostro database, di visualizzare i dati, eseguire query e tanto altro. Quindi, scarichiamo anche questo. Bene, come abbiamo fatto prima, dobbiamo scaricare un archivio DMG. Clic qui per scaricarlo. Possiamo dire di no. Non vogliamo accedere o iscriverci. Andiamo avanti e scarichiamo il DMG. Attendiamo. Perfetto. Ora, non ci resta che aprirlo. Ti troverai davanti una schermata simile a questa. Trascina semplicemente l'icona Work Branch MySQL e rilascia nella cartella delle applicazioni. Ora finiamo l'installazione e inseriamo ancora una volta la password del nostro computer. e abbiamo finito. In questo modo, il Mac installerà il programma nelle nostre applicazioni. Bene. Abbiamo finito con l'installazione. Non ci resta che usare i programmi appena installati. Premi Command più Spazio e cerca il MySQL Work Branch. Ecco fatto. Apriamolo. Se appare anche a te questo messaggio, non spaventarti. Ci sta dicendo che questa è un'applicazione che abbiamo scaricato da Internet. Quindi, dobbiamo dire al Mac che ci fidiamo. Ottimo. Eccolo qui. Ti presento MySQL Work Branch. Anche se è la prima volta che lo apriamo, dovremo vedere che esiste già una connessione. Questa qui. Se nel tuo caso non la vedi, non c'è problema. Tanto adesso ti mostro come crearla. Innanzitutto, elimino questa connessione predefinita. Così, posso farti vedere come crearla da zero. Per eliminarla, faccio clic con il pulsante destro del mouse ed elimino questa connessione. Benissimo. Ora è tutto pulito e creiamo una connessione da zero. Clicca su questa icona più. Assegniamo un nome a questa connessione. Ad esempio, Local Instance. Ovvero, istanza locale. Il metodo di connessione che utilizzeremo è TCPIP, che è impostato di default. Come host, mettiamo 127.0.0.1. Questo è l'indirizzo della macchina locale, cioè il server che abbiamo installato nel nostro Mac. La porta è 3306. Questa è la porta predefinita per il server MySQL. Poi mettiamo il nome utente dell'amministratore e, ovviamente, anche la password. Fai clic su Store in Keychain. Questa è la password che abbiamo impostato durante l'installazione, quella che ti ho detto di segnarti in un foglietto. L'hai fatto? L'hai fatto? Ottimo! Come ultima cosa, testiamo la connessione. Ok. Ci siamo connessi con successo al server MySQL sulla macchina locale, ovvero, sul server che abbiamo installato nel nostro Mac. Se la tua connessione dovesse fallire, vuol dire che hai inserito male i dati, come l'host e la porta, oppure il nome utente e la password. Quindi, ti invito ad eliminare la connessione che hai creato e ricrearla da zero, seguendo il video più attentamente. Se anche dopo aver riprovato a ricreare la connessione con i dati corretti continua a non funzionare, allora ti consiglio di disinstallare i due programmi che abbiamo installato assieme e rieseguire il video dall'inizio. Se invece non hai avuto problemi, puoi cliccare OK. Eccola qui! La nostra bellissima e funzionante connessione. Ci viene mostrata nell'home page di MySQL Work Branch. Ogni volta che apriremo MySQL Work Branch, andremo proprio ad usare questa connessione per connetterci al nostro server locale. Bene! Abbiamo finito con l'installazione di MySQL su Mac. Se vuoi installare MySQL su un altro sistema operativo, come ad esempio Windows, troverai una lezione apposita dove mostro la procedura. In questa lezione ti mostrerò come usare il Work Branch di MySQL e vedremo come creare i database che ti serviranno per seguire le lezioni del corso. Iniziamo! Eccoci qui! Innanzitutto facciamo una panoramica delle varie funzioni del Work Branch MySQL. Se è la prima volta che usi uno strumento di questo tipo, potrebbe intimidirti, ma ti assicuro che non è difficile. Lo vedremo assieme e man mano nelle lezioni scoprirai anche tu le varie funzionalità. Qui in alto abbiamo la barra degli strumenti. Con questi pulsanti possiamo aprire una schedina e scrivere le query SQL o aprire dei file SQL. Questi pulsanti, invece, servono per creare un nuovo database, creare una nuova tabella e così via. Sul lato sinistro abbiamo il pannello di navigazione con due schede, Amministrazione e Schemas. La scheda di amministrazione la useremo per svolgere attività amministrative, come ad esempio l'avvio o l'arresto del nostro server, oppure l'importazione o l'esportazione di dati. Mentre la scheda degli schemi o Schemas ci mostra i database che abbiamo nel server corrente. Quindi, attualmente, abbiamo solo un database di nome SIS, e questo è il database che MySQL usa internamente per poter funzionare. Non dobbiamo toccarlo. Lasciamolo lì. Andiamo avanti. Qui nel mezzo abbiamo una finestra. Questo è l'editor delle query, dove scriveremo il nostro codice SQL. È proprio questo che useremo per la maggior parte del nostro tempo. Sul lato destro abbiamo un altro pannello con due schede, ma per adesso non ci soffermiamo. Se nel tuo computer vedi che l'interfaccia è leggermente diversa, non ti preoccupare, è normale. Quindi non rimanere bloccato se hai un pulsante in più o in meno rispetto a quello che vedi nel video. Considera che l'interfaccia potrebbe cambiare da sistema operativo e in base alla versione del software, ma puoi star sicuro che le funzioni di base, ovvero le più importanti, sono sempre al loro posto. Detto questo, andiamo avanti. Quassù abbiamo questi pulsanti per mostrare o nascondere i pannelli. Se voglio lavorare con un'interfaccia più pulita, nasconderò il pannello sul lato destro, così come il pannello in basso. Benissimo. Ora passiamo alla creazione dei database necessari per il corso. Nella descrizione di questo video trovi un file compresso, un file zip. Scaricalo, estrailo e aprilo. Al suo interno dovresti trovare una serie di file SQL. Ecco il file principale di questa lezione. Te lo presento. E' questo dal nome createDatabases.sql. Questo file contiene una serie di istruzioni SQL per creare tutti i database di cui abbiamo bisogno. Oltre a questo file, che include tutto, abbiamo anche dei file SQL dei singoli database. Ognuno, infatti, consente di creare un database specifico. Questi li puoi usare quando servirà a ricreare un solo database senza modificare gli altri. Per adesso non considerarli. Ora, torniamo nel nostro WorkBranch MySQL. Non ci resta che aprire il file SQL principale, ovvero createDatabases.sql. Quello che vedi è un esempio di codice SQL. Se non hai familiarità con questo linguaggio ed è la prima volta che lo vedi, probabilmente ti sembrerà complicatissimo. Non ti preoccupare, seguendo questo corso imparerai a capire ogni singola parola. In breve tempo sarei in grado di scrivere tu stesso dei codici SQL come questo, in completa autonomia. Ma per adesso concentriamoci sull'eseguire questo codice. Per farlo ci basta cliccare su quest'icona gialla del tuono. Quando clicchiamo l'icona, il programma eseguirà la parte selezionata del codice SQL. Oppure, se non abbiamo selezionato una parte specifica, eseguirà tutto il codice. Ad esempio, se seleziono questa rega qui e clicco sull'icona, il programma eseguirà solo la parte selezionata. Dato che noi vogliamo eseguire l'intero codice, togliamo la selezione. Perfetto! E adesso clicchiamo sull'icona. Fantastico! Qui in basso è apparsa una nuova finestra chiamata Output. Nella finestra Output vengono mostrate tutte le operazioni eseguite dal nostro database server. Quindi possiamo controllare se le operazioni sono state eseguite con successo oppure c'è stato qualche errore o qualche problema. Come puoi vedere, abbiamo questi segni di spunta verdi accanto a ciascuna operazione, il che vuol dire che è tutto stato eseguito correttamente. Bene, possiamo chiudere questo pannello. Ora, guarda qui, nel lato sinistro della scheda schema. Non ci vengono visualizzati i database che abbiamo appena creato. Quindi clicchiamo qui e aggiorniamo. Fantastico! Se nel tuo computer vedi dei database diversi rispetto a quelli che ci sono nel video, non preoccuparti. Vuol dire che ho aggiornato il file e tu hai eseguito il codice SQL aggiornato. Detto questo, continuiamo la nostra panoramica e chiudiamo questa scheda, visto che non ci serve più. Guardiamo i dettagli del database negozio. Come puoi vedere, in ogni singolo database abbiamo le tabelle dove vengono memorizzati i nostri dati, le viste, che sono un po' come le tabelle, ma virtuali. Approfondiremo le viste nei capitoli appositi. Abbiamo anche le store procedures e le funzioni. Anche questi sono argomenti che approfondiremo con calma. Per adesso, concentriamoci sulle tabelle. Apriamole. Queste sono le tabelle del database negozio. Abbiamo clienti, ordini, corrieri e così via. Ora, seleziona con il mouse la tabella clienti e guarda cosa succede se passi sopra con il mouse. Appariranno tre icone sul lato destro. Clicca sull'icona più a destra, quella che sembra una tabella con un tuono. Eccolo qui. Con questo, possiamo vedere tutti i dati presenti nella tabella. Infatti, questi sono i dati della nostra tabella clienti. Analizzando la tabella clienti, possiamo vedere che ci sono delle colonne, come idCliente, che è un numero identificativo univoco del nostro cliente. Abbiamo anche la colonna nome, cognome, data di nascita, telefono, indirizzo e così via. Queste che abbiamo visto sono le colonne della nostra tabella, ovvero i suoi attributi. Mentre ogni riga all'interno della tabella viene chiamata record e rappresenta un singolo dato, in questo caso, un singolo cliente. Fantastico! Quindi, colonne e record. Ora, diamo un'occhiata anche ad un'altra tabella, ad esempio la tabella degli ordini. In questa tabella abbiamo delle colonne diverse. Infatti, puoi vedere idOrdine, idCliente, dataOrdine, stato e così via. Cos'è questo idCliente qui? Ti ricorda qualcosa? Stiamo usando questa colonna per identificare quale cliente ha effettuato l'ordine. Ci riferiamo ai clienti utilizzando idCliente, quindi un numero che lo identifica in maniera univoca. In parole semplici, se Mario Rossi ha effettuato un ordine, noi in questa tabella non vedremo il nome e il cognome del cliente, ma vedremo semplicemente l'id di Mario Rossi. Probabilmente starei pensando perché fare tutto questo? Beh, c'è una ragione precisa. È possibile che Mario Rossi effettui più di un ordine nel nostro negozio? Ogni volta che Mario effettua un ordine, dobbiamo cercare nel database il suo indirizzo e il suo telefono per spedire l'ordine. È possibile, però, che il campo indirizzo o il campo telefono o addirittura il campo nome possano cambiare in futuro. E quindi cosa accadrebbe? Se noi ripetessimo tutte queste informazioni per ciascun ordine ogni volta che Mario modifica qualsiasi di queste informazioni, noi dovremmo apportare delle modifiche in più record, cioè in più righe della nostra tabella ordini. Per evitare situazioni di questo tipo, si è soliti strutturare le tabelle in questo modo, ovvero, memorizzando qui semplicemente l'id cliente di Mario. E ogni volta che dobbiamo effettuare delle modifiche a questo cliente, non saremo più costretti a modificare tanti record e tabelle diverse, ma ci basterà modificare una sola riga all'interno della tabella clienti. Ad esempio, apriamo un attimo la tabella clienti e diamo un'occhiata all'id cliente 6, che, come possiamo vedere, si chiama Elena. Guardiamo tutte le sue informazioni. Tutti i dati di Elena sono racchiusi in questa singola riga. Quindi, se qualche informazione dovesse mai cambiare in futuro, ci basterà modificare questo singolo record. È proprio così che funzionano i database relazionali. Come hai potuto vedere, abbiamo delle tabelle che sono collegate tra loro tramite l'id cliente e questa è proprio una relazione. Infatti, la colonna id cliente della tabella clienti è associata alla colonna id cliente della tabella ordini. Bene, abbiamo finito. Questa è stata una breve, ma intensa introduzione ai database relazionali. Grazie a questa lezione, ora sai cosa si intende per database, tabelle, colonne, righe e relazioni. Nelle prossime lezioni, andremo ad approfondire le query, cioè, i comandi che diamo al database per fargli eseguire determinate azioni, ma prima di proseguire hai un piccolo esercizio da fare. Ma come? Già esercizi? Non è nulla di complicato, è una cosa semplice. Il tuo compito adesso è quello di spulciare ed esplorare il database fatturazione. Inizia a guardare le tabelle, così ti farai un'idea di cosa contiene. Nelle prossime lezioni, useremo proprio questo database, quindi sarai avvantaggiato. Buona esplorazione! In questo video vedremo come recuperare i dati da una singola tabella grazie all'istruzione Select. Eccoci qui. Diamo un'occhiata al pannello di navigazione. Attualmente, nessuno dei nostri database viene visualizzato in grassetto. Ciò significa che nessuno di questi database è selezionato per la query, ovvero le interrogazioni. Quindi, il primo passaggio per scrivere una query che ci mostri dei dati è selezionare un database da interrogare. La query che scriveremo verrà eseguita in quello specifico database. In questa dimostrazione useremo il database negozio, quindi digitiamo use negozio. Use è una parola chiave nel linguaggio SQL ed è per questo motivo che viene visualizzata in blu. Le SQL non è un linguaggio case sensitive. Questo vuol dire che non fa differenza se lo scriviamo in caratteri maiuscoli o minuscoli. Non ha molta importanza. Tuttavia, è buona norma usare le maiuscole per le parole chiave del linguaggio e le minuscole per tutto il resto. quindi andiamo avanti ed eseguiamo questa query. Ecco qua. Guarda, il database negozio ora viene visualizzato in grassetto. Ottimo. Noi adesso abbiamo selezionato il database usando il linguaggio SQL. Tuttavia, il programma che stiamo usando ovvero WorkBranch MySQL ci facilita il lavoro e ci consente di selezionare un database facendo doppio clic sul nome. Quindi, ora faccio doppio clic su Fatturazione e voilà, diventa il database corrente. Se eseguiamo di nuovo la nostra query, il database negozio viene riselezionato. Bene, ora che abbiamo selezionato il database, è arrivato il momento di scrivere la nostra prima select, ovvero una query per mostrare il contenuto di una specifica tabella. Nel nostro esempio useremo la tabella clienti. Dopo l'istruzione Use andremo a scrivere l'istruzione Select. Il comando Select lo possiamo tradurre come un seleziona, quindi digitiamo Select e ora dobbiamo specificare le colonne che vogliamo recuperare. ad esempio possiamo recuperare la colonna ID Cliente oppure la colonna del nome o addirittura possiamo recuperare tutte le colonne della tabella usando un asterisco. Perfetto! Tuttavia non gli abbiamo ancora detto da quale tabella deve recuperare i dati. Per fare questo si usa la parola chiave FROM ovvero DA DA DOVE ed è qui che specifichiamo la tabella che vogliamo interrogare. In questo caso la tabella dei clienti. Fantastico! Questa è la tua prima query di selezione. La struttura che abbiamo scritto è la più semplice possibile. Stiamo dicendo di selezionare tutti i clienti in tabella clienti senza particolari controlli. Ti faccio notare una cosa. Qui noi abbiamo scritto due istruzioni e sequelle. Devi sapere che ogni volta che si hanno più istruzioni e sequelle è necessario terminare ciascuna istruzione usando il punto e virgola. Il nostro MySQL Workbench ci segnala questo problema con una sottolineatura rossa che indica un errore. Se ci passi sopra col mouse mostra un suggerimento. Dice che il comando SELECT non è valido in questa posizione proprio perché non abbiamo terminato la prima istruzione di use con punto e virgola quindi non capisce che sono due comandi separati. Per farglielo capire ci basta inserire un punto e virgola qui su. Perfetto l'errore è sparito. Ora eseguiamo la nostra query. Per eseguirla possiamo cliccare sul solito pulsante qui oppure possiamo usare una combinazione di tasti. Ti faccio vedere. Guarda il menu delle query qui in alto il primo elemento è proprio EXECUTE ovvero ESEGUI. Qui accanto al nome vedrai i tasti da cliccare nel tuo sistema operativo. Io sto usando Windows quindi dovrò premere CTRL maiuscolo più invio. Se tu usi Mac o Linux dovrai sicuramente usare una combinazione di tasti differente come maiuscolo più command più invio. Qualsiasi sia la combinazione di tasti che vedi qui provala. Se non conosci uno di questi tasti cercalo su Google e guarda quale tasto della tua tastiera corrisponde. Bene proviamolo. Io userò CTRL maiuscolo più invio. Ed ecco qui tutti i clienti in questa tabella. I risultati che vedi qui sono righe quindi come per le tabelle prendono il nome di record. Bene quindi questa istruzione SELECT è formata da due parti chiamiamole due clausole la clausola SELECT e la clausola FROM questa è proprio la base in realtà esistono altre clausole che possiamo usare ad esempio possiamo utilizzare la clausola WHERE ovvero dove in italiano per aggiungere dei filtri da applicare i risultati ad esempio mettiamo il filtro che id cliente deve essere 1 quindi possiamo scrivere WHERE id cliente uguale 1 ottimo ogni volta che eseguiamo questa query ci verranno mostrati solo i risultati che soddisfano il nostro filtro quindi avremo solo il cliente con id 1 bene abbiamo visto la clausola WHERE passiamo invece alla clausola che ci consente di ordinare i risultati ovvero la clausola ORDER BY questa va scritta come ultima clausola nella nostra SELECT e qui specifichiamo la colonna per cui vogliamo ordinare i risultati supponiamo di voler ordinare i clienti per nome per farlo digitiamo nome ovvero il nome della colonna presente in questa tabella se esegui questa query il nostro ORDER BY sembra non avere alcun effetto è rimasto tutto uguale questo perché abbiamo un solo record come risultato quindi lascia che elimini temporaneamente la clausola WHERE per farlo possiamo mettere due trattini davanti alla riga ora questa riga viene trattata come un commento il che significa che il motore SQL non eseguirà il filtro ok eseguiamo la query ancora una volta guarda un po' adesso tutti i clienti vengono ordinati in base al nome bene ora hai visto le funzionalità di base delle select nelle prossime lezioni approfondiremo le clausole in maniera più dettagliata la cosa importante che ti devi ricordare da questa lezione è che le clausole sono facoltative e hanno un ordine ovvero prima from poi where ed infine order by ad esempio posso commentare la clausola where oppure posso commentare order by possiamo addirittura commentare il from ovviamente questa query non selezionerà nessuna colonna di nessuna tabella giusto per curiosità proviamo ad eseguire questa query nei risultati otterrai qualcosa di simile a questo ovvero due colonne chiamate 1 e 2 e in queste colonne abbiamo questi valori questo è un esempio estremo non andrei mai a scrivere select come questa ma te l'ho fatto vedere per farti capire che le varie clausole sono tutte opzionali ma nel 100% dei casi le userai tutte abbastanza spesso anche l'ordine in cui abbiamo scritto le clausole è importante per la sintassi e sequelle iniziamo sempre con il select poi abbiamo from where e infine order by esattamente come te le ho fatte vedere se cambiamo l'ordine le sequelle non capirà cosa deve fare e ci darà un errore di sintassi la sintassi è la grammatica del linguaggio oppure più semplicemente la struttura da rispettare quando scriviamo le istruzioni e sequelle se scrivo le clausole nell'ordine giusto queste verranno eseguite senza problemi ma se cambiamo l'ordine non riuscirà a capire cosa gli stiamo chiedendo un'ultima cosa velocissima in questo esempio ho inserito le varie clausole a capo una dopo l'altra questo non è obbligatorio gli a capo vengono ignorati durante l'esecuzione delle query li ho scritti così giusto per rendere il testo più leggibile a noi umani potevamo anche scriverle in questo modo mettendo tutto in una riga avrebbe funzionato benissimo tuttavia scrivere le query in questo modo va bene solo per query brevi e semplici man mano che diventano più complesse e con tante clausole è meglio mettere ogni clausola su una nuova riga bene abbiamo finito se vuoi fai qualche altra prova con il select e le varie clausole divertiti in questa lezione esamineremo la clausola select in tutte le sue sfaccettature pronto? iniziamo eccoci qui innanzitutto possiamo vedere che il nostro database corrente è negozio ed è già selezionato quindi possiamo rimuovere la prima istruzione dato che attualmente non ne abbiamo bisogno inoltre elimino anche questi due commenti così possiamo concentrarci al 100% sulla clausola select quindi cosa possiamo fare con questa clausola select? beh nell'ultima lezione hai imparato che se usiamo l'asterisco la select restituirà tutte le colonne della tabella in alternativa possiamo specificare noi una lista di colonne che vogliamo mostrare questo è utile in situazioni in cui hai una tabella con molte colonne e non vogliamo che vengano mostrate tutte immagina di avere una tabella con 10 record e 3 colonne mostrare tutti i dati sarà semplicissimo per il database tuttavia se abbiamo una tabella con migliaia di record e tante colonne le nostre query saranno più lente perché hanno bisogno di più tempo per essere lavorate è buona abitudine specificare esplicitamente le colonne che vogliamo ottenere in questo modo agevoliamo il lavoro del database nel recuperare i dati e lavorerà più velocemente bene chiarito questo supponiamo di voler ottenere le colonne del nome e del cognome eseguiamo la query come possiamo notare otteniamo solo queste due colonne e sono nello stesso ordine che abbiamo specificato qui quindi se proviamo a cambiare l'ordine mettendo prima il cognome ed eseguiamo di nuovo la query vedremo che adesso la colonna del cognome viene messa prima adesso aggiungiamo una nuova colonna alla fine ovvero punti così prendiamo i punti di ciascun cliente eseguiamo la query questi sono i punti di ogni cliente calcolati in base ai loro acquisti ora supponiamo di voler usare questi punti per calcolare lo sconto che possiamo dare a ciascun cliente possiamo usare un'espressione aritmetica molto semplicemente mettiamo punti più 10 ecco questa è un'espressione aritmetica una somma quindi ora eseguendo la query per il primo record vediamo che i punti diventeranno 19.656 eseguiamo la query ancora una volta ed ecco fatto ora possiamo mettere la colonna dei punti originale qui per chiarezza quindi punti punti più 10 eseguiamo la query ancora una volta qui possiamo vedere i punti originali e accanto il risultato della somma bene qui stiamo usando l'operatore più che è per l'addizione possiamo fare anche altre operazioni aritmetiche come la moltiplicazione divisione sottrazione e anche il modulo ovvero il resto della divisione facciamo qualche prova quindi scriviamo qualcosa di più complesso diciamo che vogliamo prendere i punti moltiplicarli per 10 e in più aggiungere 100 possiamo immediatamente vedere che la riga 1 sta diventando troppo lunga e non si adatta allo schermo in situazioni simili puoi spezzare la clausola SELECT posizionando ogni colonna su una nuova riga in questo modo SELECT cognome nome punti punti per 10 più 100 eseguiamo la query un'altra volta ed ecco qui questa è la nostra nuova colonna con il nuovo valore calcolato ora la cosa più importante da sapere è che le espressioni aritmetiche vengono calcolate in base all'ordine degli operatori matematici ti faccio un breve riassunto in matematica gli operatori di moltiplicazione e divisione hanno una precedenza più alta rispetto all'addizione e alla sottrazione quindi in questa espressione i punti vengono prima moltiplicati per 10 e poi il risultato viene sommato a 100 se volevi un comportamento diverso dovevi usare le parentesi in questo modo cambierà l'ordine di esecuzione del calcolo ad esempio cambiamo questa moltiplicazione in addizione e poi mettiamo quella moltiplicazione qui in questa espressione il 10 viene moltiplicato per 100 e dopo il risultato viene aggiunto ai punti facciamo un altro esempio cambiamo l'ordine di esecuzione aggiungendo le parentesi qui con queste parentesi prima prendiamo i punti aggiungiamo 10 e moltiplichiamo il risultato per 100 quindi le parentesi sono utili per cambiare l'ordine delle operazioni oltre che per aggiungere chiarezza al nostro codice in questo modo quando qualcun altro leggerà la query potrà facilmente capire l'ordine delle operazioni bene eseguiamo questa query ancora una volta ok ora guarda il nome di questa colonna qui viene riportata automaticamente l'espressione che abbiamo sulla riga 5 diciamo che non è proprio l'ideale sarebbe meglio avere un nome chiaro e descrittivo come nome della colonna in queste situazioni possiamo creare un alias una sorta di nome temporaneo e per farlo ci basterà usare la parola chiave es in italiano possiamo tradurre con come e poi scriviamo il nome ad esempio fattore di sconto eseguiamo la query e guarda un po' il nome della colonna è cambiato ecco il vantaggio di usare un alias possiamo rinominare le colonne che mostriamo nei risultati della select possiamo anche inserire degli spazi nel nome della colonna ci basta usare le virgolette singole o doppie inseriremo qui le virgolette e proviamo ad aggiungere uno spazio tra queste due parole eseguiamo la query ancora una volta e ora abbiamo fattore di sconto con gli spazi fantastico quindi ricapitoliamo rapidamente tutto ciò che hai imparato in merito alla clausola select possiamo usare un asterisco per restituire tutte le colonne possiamo specificare esplicitamente le colonne che vogliamo restituire possiamo anche usare espressioni aritmetiche qui e opzionalmente possiamo anche fornire un alias per ciascuna colonna dei risultati non abbiamo finito perché c'è un'altra cosa che devi sapere sulla clausola select eliminiamo questa query e scriviamo select provincia from clienti guarda qui qui abbiamo solo la provincia in cui abitano i nostri clienti nei miei dati di esempio non abbiamo duplicati in altre parole non abbiamo più clienti che si trovano nella stessa provincia ma in questa prova voglio fare una modifica voglio cambiare la provincia del primo cliente in Bari così da avere due duplicati nei risultati quindi apriamo il pannello di navigazione ed ecco la nostra tabella dei clienti clienti guardiamo tutti i dati ed ecco il nostro primo cliente come puoi vedere si trova nella provincia di Mantova voglio cambiarla in Bari quindi faccio doppio clic scrivo BA che sta per Bari premo invio ed è fatto ora nell'angolo in basso a destra dello schermo dovresti vedere due pulsanti applica apply e ripristina revert li hai trovati? ok fai clic su applica vedrai una casella di selezione come questa che ti chiede di rivedere le modifiche quindi vai avanti e fai ancora clic sul pulsante applica bene ora torniamo alla finestra dove eseguiamo le query ed eseguiamo di nuovo la nostra come puoi vedere i primi due clienti si trovano a Bari quindi abbiamo un duplicato adesso ti faccio una domanda e se noi però non volessimo dei duplicati come facciamo ad ottenere l'elenco univoco delle province senza ripetizioni? molto semplice ci basta usare la parola distinct quindi select distinct provincia con questa query recupereremo l'elenco univoco delle province nella tabella dei clienti con la parola chiave distinct rimuoviamo automaticamente eventuali duplicati proviamola eseguiamo la query ancora una volta eccolo ora possiamo vedere che Bari non è più duplicato ma è presente solo una volta bene ecco un esercizio per te voglio che tu scriva una query e se quelle per restituire tutti i prodotti nel nostro database nel risultato mostra tre colonne nome prezzo è una nuova colonna chiamata nuovo prezzo che è basata su questa espressione il prezzo moltiplicato per 1,1 l'obiettivo di questa query è ottenere tutti i prodotti il prezzo originale e il loro nuovo prezzo aumentato del 10% metti pure in pausa il video e dedica 1 o 2 minuti a questo esercizio quando avrai finito torna qui e guarda la mia soluzione ok la soluzione è abbastanza facile quindi iniziamo con select ora quali colonne dobbiamo selezionare nome prezzo e poi useremo un'espressione aritmetica per calcolare il nuovo prezzo quindi digitiamo prezzo per 1.1 e poi gli diamo un alias come nuovo prezzo oppure possiamo metterlo tra virgolette e mettere uno spazio tra nuovo e prezzo da dove vogliamo selezionare queste colonne dalla tabella dei prodotti quindi scriviamo from prodotti nota che ho usato i caratteri maiuscoli per tutte le parole chiave e sequelle e caratteri minuscoli per tutto il resto andiamo avanti ed eseguiamo la query ecco il risultato questi sono tutti i prodotti puoi vedere il prezzo originale così come il nuovo prezzo che è più costoso del 10% ottimo lavoro nella lezione precedente abbiamo visto che la clausola WHERE si usa per filtrare i dati e possiamo farlo in maniera molto precisa ad esempio se vogliamo ottenere solo i clienti con un punteggio superiore a 20.373 possiamo farlo infatti ci basta digitare i punti maggiore 20.373 cosa accade quando andiamo ad eseguire questa query il motore di esecuzione della query in MySQL andrà a controllare tutti i clienti della tabella clienti per ogni cliente sarà valutata la condizione punti maggiore 20.373 e se la condizione risulta vera quel cliente verrà restituito nella lista dei risultati andiamo avanti eseguiamo il tutto ed ecco il risultato come puoi vedere hai solo due clienti che hanno un punteggio maggiore a 20.373 questo è l'operatore maggiore di uno degli operatori di confronto in SQL ma ce ne sono anche tanti altri che ora ti mostro ecco l'elenco completo degli operatori di confronto abbiamo maggiore di maggiore uguale a minore di minore uguale a l'operatore di uguaglianza e per la non uguaglianza possiamo usare il punto esclamativo uguale oppure questo quindi entrambi questi operatori sono di non uguaglianza ti mostro alcuni esempi ok eliminiamo tutto e supponiamo che tu voglia ottenere solo i clienti della provincia di Bari se noti bene ho messo Bari ba tra virgolette perché questo è ciò che chiamiamo una stringa una stringa è una sequenza di caratteri quindi ogni volta che hai a che fare con una sequenza di caratteri o con dei testi devi chiudere i tuoi dati con virgolette singole o doppie per convenzione però usiamo le virgolette singole quindi eseguiamo questa query ed ecco il risultato come puoi vedere abbiamo solo questi due clienti che si trovano a Bari non importa se usiamo caratteri in maiuscole o minuscoli se digitiamo ba in maiuscole ed eseguiamo la query otteniamo lo stesso identico risultato ora come facciamo ad ottenere tutti i clienti che non sono della provincia di Bari possiamo utilizzare l'operatore di non uguaglianza mettiamo prima di questo uguale un punto esclamativo oppure possiamo usare un'altra notazione minore maggiore in ogni caso otteniamo lo stesso risultato quindi questi sono i clienti che non si trovano in provincia di Bari possiamo usare questi operatori di confronto anche con le date ad esempio supponiamo che tu vogli ottenere solo i clienti nati dopo una data particolare la prima data particolare che mi viene in mente è il 16 dicembre 1992 cambiamo la nostra condizione in where data di nascita maggiore 1992 trattino 12 trattino 16 utilizziamo le virgolette per rappresentare i valori di data anche se le date in realtà non sono stringhe ma nel linguaggio SQL bisogna racchiudere le date tra virgolette questo è il formato standard per scrivere le date in MySQL 4 cifre per l'anno 2 cifre per il mese 2 cifre per il giorno andiamo avanti ed eseguiamo questa query abbiamo solo 3 clienti nati dopo il 16 dicembre 1992 bene questi erano esempi di operatori di confronto in SQL nella prossima lezione vedremo come unire più condizioni e filtrare i dati ecco il tuo esercizio voglio che tu scriva una query per ottenere gli ordini effettuati nel 2019 guarda la tabella degli ordini guarda quali colonne abbiamo lì e in base a quelle scrivi la query con una clausola WHERE ecco la tabella degli ordini qui abbiamo questa colonna data ordine possiamo usare questa colonna per vedere gli ordini effettuati nel 2019 quindi ecco la nostra query select asterisco from ordini where data ordine maggiore uguale 2019 0101 più avanti ti mostrerò come scrivere una query per ottenere gli ordini effettuati nell'anno in corso ora eseguiamo questa query e vediamo cosa otteniamo abbiamo un solo ordine effettuato nel 2019 in questa lezione ti mostrerò come unire più condizioni di ricerca per filtrare i dati abbiamo visto che con la clausola WHERE possiamo essere molto precisi ma supponiamo che tu voglia ottenere tutti i clienti nati dopo la nostra data del 16 dicembre 1992 è che allo stesso tempo hanno più di un particolare punteggio ad esempio più di 18373 punti sembra complicato vero? è proprio qui che usiamo l'operatore AND quindi digitiamo la prima condizione seguita da AND e dopo digitiamo un'altra condizione ad esempio punti maggiore 18373 ora quando eseguiamo questa query otteniamo solo i clienti che soddisfano entrambe queste condizioni ovvero che hanno entrambe le condizioni come vere diamo un'occhiata abbiamo solo due clienti se noti bene entrambe queste persone sono nate dopo il 16 dicembre 1992 e hanno più di 18373 punti quindi questo è l'operatore AND quando usiamo questo operatore entrambe le condizioni devono essere vere per poter inserire il record nel risultato in contrasto con l'operatore AND abbiamo l'operatore OR con questo basta che almeno una di queste condizioni sia vera per restituire la riga del risultato diamo diamo un'occhiata ora eseguiamo di nuovo questa query anziché solo due record abbiamo parecchi record quindi ad esempio abbiamo questa persona che non è nata dopo il 16 dicembre 1992 ma ha più di 18373 punti quindi qualsiasi record nella tabella cliente che soddisfi almeno una di queste condizioni verrà restituito ora vediamo qualcosa di più complesso supponiamo di voler acquisire i dati di clienti che siano nati dopo il 16 dicembre 1992 o che abbiano 18373 punti e vivano in provincia di Bari digitiamo end alla query che abbiamo già scritto e poi aggiungiamo un'altra condizione ovvero provincia uguale a Bari eseguiamo questa query e vediamo quello che otteniamo abbiamo solo quattro record quindi questi sono i clienti che sono nati dopo il 16 dicembre 1992 o hanno più di 18373 punti e vivono in provincia di Bari se guardi il primo cliente qui questa persona non è nata dopo il 16 dicembre 1992 ma le ultime due condizioni sono vere per questo cliente ora quando si combinano più operatori logici è necessario conoscere la precedenza di questi operatori quindi prima ho parlato dell'ordine degli operatori aritmetici ti ho detto che la moltiplicazione e la divisione hanno un ordine più alto della dizione della sottrazione possiamo usare le parentesi per cambiare l'ordine di esecuzione lo stesso concetto vale per gli operatori logici quindi l'operatore AND è valutato sempre per primo quindi viene valutato prima del OR quando questa query viene eseguita il motore di esecuzione della query valuta prima questa condizione perché qui stiamo usando un AND non importa che abbiamo digitato questa condizione dopo la prima perché l'operatore AND ha una precedenza maggiore puoi sempre cambiare l'ordine usando le parentesi e questo rende anche il tuo codice più pulito e più facile da capire quindi qui puoi mettere parentesi intorno a queste ultime due condizioni e possiamo anche metterle su una nuova riga per chiarezza in questo modo chiunque legga questo codice può capire facilmente lo scopo di questa query abbiamo anche un altro operatore logico chiamato NOT e si usa per negare una condizione ti faccio vedere semplifichiamo la nostra clausola WHERE e torniamo alla situazione precedente se esegui questa query ottieni questi clienti fai ben attenzione a questi di 1 3 5 e così via possiamo usare l'operatore NOT per negare questa condizione quindi applichiamo NOT e mettiamo anche delle parentesi attorno a questa condizione non è obbligatorio l'uso delle parentesi ma rende più leggibile il codice ora quando eseguiamo questa query vedremo altri clienti che sono diversi da quelli ottenuti prima diamo un'occhiata anziché avere clienti con i d3 5 6 e così via otteniamo clienti con i d2 4 10 tecnicamente questi clienti sono nati prima del 16 dicembre del 1992 e hanno meno di 18 18.373 punti se guardi qui questo primo cliente è nato prima del 16 dicembre 1992 e ha meno di 18.373 punti la query scritta in questo modo non è molto comprensibile lascia che ti mostri un trucco che ho imparato in matematica che ci consente di ottenere lo stesso risultato eliminando l'operatore NOT ogni volta che hai un operatore NOT puoi semplificare la tua espressione in questo modo applichiamo l'operatore NOT alla prima condizione persone nate dopo il 16 dicembre 1992 come posso negare questa condizione ebbene l'operatore maggiore di diventa minore uguale a cioè l'inverso della condizione giusto ora applichiamo il NOT ad OR per negare OR cosa otteniamo otteniamo AND infine applichiamo l'operatore NOT all'ultima condizione persone che hanno più di 18.373 punti quando neghiamo questa condizione otteniamo clienti con punteggio minore uguale a 18.373 ora possiamo rimuovere l'operatore NOT per semplificare non abbiamo bisogno di parentesi perché abbiamo solo due condizioni che si combinano con un AND E' questo il risultato come puoi vedere questo è molto più facile da leggere e capire abbiamo le persone che sono nate prima di questa data e hanno meno di 18.373 punti bene ecco il tuo esercizio dalla tabella dettagli ordine ottenere gli articoli dell'ordine numero 6 dove il prezzo totale per quell' articolo è maggiore di 80 ecco la tabella dettagli ordine in questa tabella abbiamo le colonne id ordine id prodotto quantità e prezzo se moltiplichiamo la quantità per il prezzo unitario possiamo ottenere il costo totale di quell' articolo quindi possiamo confrontarlo con 80 quindi andiamo avanti e scriviamo questa query select asterisco from dettagli ordine where id ordine uguale 6 and prezzo per quantità maggiore di 80 come puoi vedere anche nella clausola where possiamo usare un'espressione aritmetica non è una specialità della clausola select ora seguiamo questa query e vediamo cosa otteniamo dovremo ottenere solo un articolo il prodotto 1 in questa lezione ti mostrerò come utilizzare l'operatore in in sql supponiamo di voler ottenere i clienti che vivono in provincia di bari o ferrara o a osta un modo per scrivere questa query è così where provincia uguale bari or provincia uguale ferrara or provincia uguale a osta le persone nuove a linguaggio sql o alla programmazione in generale trovano questa espressione un po' strana si chiedono ehi perché non possiamo riscrivere questa espressione come where provincia uguale ba or fe or a o ecco il motivo è che stiamo usando l'operatore or per combinare più condizioni quindi abbiamo una condizione o più accuratamente un'espressione ma sul lato destro di quest' operatore or abbiamo una stringa in sql non possiamo combinare una stringa con un'espressione booleana che restituisce quindi vero o falso ecco perché dobbiamo scrivere la nostra query in questo modo quindi abbiamo più espressioni o condizioni e le stiamo combinando utilizzando l'operatore or ora se eseguiamo questa query otteniamo questi clienti qui ma esiste un modo più breve e più pulito per ottenere lo stesso risultato anziché combinare più condizioni utilizzando l'operatore or possiamo usare l'operatore in aperta parentesi ba virgola fe virgola a o chiusa parentesi l'ordine degli elementi non ha importanza questa query è esattamente equivalente a quella che avevamo in precedenza ma come puoi vedere è più breve e più facile da capire quindi eseguiamola guarda otteniamo lo stesso identico risultato ora qui possiamo anche usare l'operatore not supponiamo di voler ottenere tutti i clienti al di fuori di queste province quindi possiamo usare where provincia not in aperta parentesi ba virgola fe virgola a o chiusa parentesi ora se esegui questa query ottieni clienti che si trovano in siena sassari e così via quindi usa l'operatore in quando vuoi confrontare un attributo con un insieme di valori ecco il tuo esercizio voglio che tu scriva una query per ottenere i prodotti la cui quantità disponibile in magazzino è uguale a uno di questi valori 59 48 82 quindi metti in pausa il video fai questo esercizio poi torna qui e continua a guardare ok è abbastanza semplice select asterisco per ottenere tutte le colonne from prodotti where where quantità disponibile in aperta parentesi 59 virgola 48 virgola 82 chiusa parentesi eseguiamo la query e otteniamo solo due record perché non abbiamo un prodotto con quantità in stock pari a 82 in questa lezione vedremo l'operatore between supponiamo che tu voglia ottenere i clienti che hanno i punti in un intervallo molto specifico ad esempio compreso tra 18.373 e 20.737 un modo per scrivere questa query è il seguente where punti maggiore uguale 18.373 and punti minore uguale 20.737 se eseguiamo questa query otteniamo clienti che soddisfano questo criterio ogni volta che hai bisogno di confrontare un attributo con un intervallo di valori puoi usare l'operatore between in questo modo il tuo codice non solo è più breve ma anche più pulito e leggibile possiamo riscrivere l'espressione in questo modo where punti between 18.373 and 20.737 è esattamente la stessa cosa di quello che avevamo prima quindi anche i valori dell'intervallo sono inclusi significa che i punti saranno maggiori o uguali a 18.373 e minori o uguali a 20.737 eseguiamo la query ed ecco abbiamo ottenuto lo stesso identico risultato bene ora come esercizio voglio che tu scriva una query per ottenere i clienti nati tra il primo gennaio 1990 e il primo gennaio del 2000 quindi iniziamo con select asterisco from clienti where data di nascita between 1990 01 01 and 2000 01 01 come puoi vedere possiamo usare l'operatore between anche per i valori di tipo data non è limitato solo ai numeri quindi il giorno di nascita dovrebbe essere compreso tra primo gennaio 1990 e il secondo valore primo gennaio 2000 eseguiamo la query ed ecco nei risultati le tre persone che sono nate tra il 1990 e il 2000 in questa lezione vedremo come filtrare le stringhe le stringhe non sono altro che dei testi delle parole e sono racchiuse dagli apici singoli o doppi torniamo al nostro filtro supponiamo di voler solo ottenere il cliente il cui cognome inizia con B digitiamo where cognome ma come facciamo a dirgli che deve solo iniziare con la lettera B e non essere uguale a B dobbiamo usare l'operatore like quindi vogliamo i clienti il cui cognome inizi con B a prescindere dal numero di caratteri che ci sono dopo con l'operatore like si usano dei caratteri speciali ad esempio si usa il simbolo percentuale per indicare qualsiasi numero di caratteri potresti avere un carattere dopo B nessun carattere dieci caratteri in questo modo otteniamo tutti i clienti il cui cognome inizia con B e non importa se B è in minuscolo o in maiuscolo quindi eseguiamo questa query ed eccoci qui abbiamo solo tre clienti il cui cognome inizia per B come altro esempio supponiamo di volere solo i clienti il cui cognome inizia per Bruce quindi cambiamo la nostra espressione in Bruce per cento ora eseguiamo la query e otteniamo solo un cliente in questo caso il simbolo percentuale deve necessariamente essere alla fine perché noi volevamo ottenere solo i clienti il cui cognome inizia con Bruce ma non è sempre così infatti il simbolo di percentuale può essere messo ovunque ad esempio supponiamo di voler cercare i clienti che hanno una B nel loro cognome che sia all'inizio al centro o alla fine scriviamo quindi per cento B per cento questo significa che possiamo avere un numero qualsiasi di caratteri prima o dopo B eseguiamo la query questi sono i clienti che hanno una B da qualche parte nel loro cognome non importa se B è all'inizio al centro o alla fine diamo un'occhiata ad un altro esempio vogliamo tutti i clienti i cui cognomi finiscano con i quindi scriviamo percento i eseguiamo questa query e abbiamo cinque clienti il cui cognome termina con i quindi è così che usiamo il segno di percentuale non abbiamo finito devi sapere che possiamo usare anche altri simboli ad esempio il trattino basso o underscore corrisponde ad un singolo carattere quindi se lo sostituiamo la percentuale otteniamo i clienti il cui cognome è lungo esattamente due caratteri non ci interessa quale sia il primo carattere ma il secondo carattere dovrebbe essere i eseguiamo questa query ovviamente non abbiamo clienti il cui cognome soddisfi il modello che abbiamo scritto proviamo a cambiare e a mettere cinque trattini bassi quindi uno due tre quattro cinque seguiti da una i dovremmo ottenere un solo cliente eccolo qui il suo cognome è esattamente di sei caratteri non ci interessano quali siano i primi caratteri basta che il cognome finisca con una i ora proviamo a sostituire il primo trattino basso con m cosa dovremmo ottenere pensaci un attimo è semplice significa che vuoi ottenere i clienti il cui cognome inizia con m e dopo m abbiamo esattamente quattro caratteri seguiti da una i eseguiamo questa query abbiamo trovato un solo cliente che soddisfi la condizione che abbiamo scritto perfetto è così che usiamo l'operatore like usiamo il segno di percentuale per rappresentare un numero qualsiasi di caratteri e un trattino basso per rappresentare un singolo carattere l'operatore like in my sequel è ormai un operatore vecchio ne esiste uno più recente molto più potente che ci consente di cercare qualsiasi modello o combinazione di string non vedi l'ora di conoscerlo eh? non preoccuparti lo vedremo tra poco bene oggi facciamo due esercizi per l'operatore like per prima cosa vogliamo ottenere i clienti i cui indirizzi contengono vico o strada e poi vogliamo i clienti i cui numeri di telefono finiscano con 9 metti in pausa il video e prova a fare l'esercizio bene iniziamo con il primo esercizio quindi select asterisco from clienti where indirizzo like vogliamo avere vico nell'indirizzo non importa la posizione quindi inseriamo la percentuale prima e dopo vico lo stesso vale per strada quindi or indirizzo like per cento strada per cento eseguiamo questa query ecco il risultato dovresti ottenere i clienti con i di 4 e 10 se guardi i loro indirizzi tutti hanno vico o strada nel loro indirizzo ottimo passiamo al secondo esercizio vogliamo ottenere i clienti il cui numero di telefono termina con 9 è abbastanza facile quindi permettimi di cambiare la nostra clausola where telefono like per cento 9 bene eseguiamo eseguiamo la query quindi ecco il risultato quasi mi dimenticavo puoi sempre usare l'operatore not davanti all'operatore like supponiamo di volere i clienti il cui numero di telefono non termina con 9 cosa dovremo fare semplice basta mettere il not prima del like ora eseguiamo questa query ancora una volta ed ecco il risultato abbiamo ottenuto tutti gli altri clienti nel database in questa lezione parliamo di espressioni regolari un argomento abbastanza complesso quindi facciamo un passo indietro nella lezione precedente abbiamo visto l'operatore like in sql facciamo giusto un piccolo esempio per rinfrescarci la memoria supponiamo di voler ottenere i clienti che hanno la parola etta nel loro cognome where cognome like percento etta percento la parola etta può essere ovunque nel cognome perché abbiamo il simbolo di percentuale sia prima che dopo la parola eseguiamo questa query e otteniamo un solo cliente ottimo come ricorderai ti avevo detto che in mysql esiste un operatore più nuovo e potente dell'operatore like ovvero regexp che è l'abbreviazione di espressione regolare le espressioni irregolari sono estremamente potenti quando si tratta di cercare stringhe e ci consentono di fare ricerche molto più complesse proviamo a scrivere l'esempio di prima usando un'espressione irregolare quindi scriviamo come puoi vedere non abbiamo bisogno di scrivere le percentuali quello che abbiamo scritto è esattamente identico a quello che avevamo prima infatti se eseguiamo questa query otteniamo lo stesso risultato ottimo nelle espressioni irregolari ci sono caratteri aggiuntivi che non abbiamo quando usiamo l'operatore like ad esempio possiamo usare l'accento circonflesso per indicare l'inizio di una stringa quindi se metto l'accento circonflesso appena prima della parola etta significa che il cognome deve iniziare con etta ovviamente se eseguiamo questa query non otteniamo nessun risultato che soddisfi la nostra condizione abbiamo anche un segno di dollaro per rappresentare la fine di una stringa quindi se lo metto qui significa che il cognome deve terminare con etta eseguiamo questa query e otteniamo lo stesso risultato di prima possiamo anche cercare più parole ad esempio supponiamo di voler trovare i clienti che hanno etta o mac nel loro cognome quindi usiamo una barra verticale e scriviamo un altro pattern eseguiamo questa query e qui vediamo due clienti uno di loro ha la parola mac nel cognome l'altro la parola etta ora facciamo qualcosa di più supponiamo di voler trovare il cliente che ha le parole etta mac o rosa nel loro cognome eseguiamo la query e otteniamo tre clienti perfetto ricapitolando si usa una barra verticale per rappresentare più stringhe di ricerca come altro esempio possiamo cambiare il primo pattern di ricerca quindi etta in qualcosa di simile accento circonflesso etta barra verticale mac barra rosa questo pattern significa che il cognome dovrebbe iniziare con la parola etta oppure contenere la parola mac o rosa eseguiamo la query ora otteniamo solo due clienti perché il nostro cliente con il cognome bruschetta non corrisponde più a questo modello tuttavia se cambiamo il nostro primo modello in etta simbolo del dollaro ed eseguiamo la query riotteniamo tre clienti quindi è così che possiamo combinare più caratteri speciali quando facciamo una query complessa ora facciamo un altro esempio supponiamo che tu voglia cercare clienti che hanno una O nel loro cognome quindi queste sono tutte le persone ora supponiamo di volere essere sicuri che prima della O ci sia una S o una I è qui che usiamo le parentesi quadre e all'interno di queste aggiungiamo più caratteri come S I N e a quello corrispondono tutti i clienti che hanno S O O IO o NO nel loro cognome quindi ognuno di questi caratteri può venire prima di O ora eseguiamo questa query ecco fatto nel primo esempio prima di O abbiamo I che è uno dei caratteri all'interno delle parentesi nel secondo esempio prima di O abbiamo una N che è un altro carattere valido prima della O mentre qui nel terzo abbiamo una S prima della O e ancora una volta le parentesi quadre non devono essere prima di O possiamo aggiungerle dopo O quindi tutti i clienti che hanno un cognome con una O seguita da una F una O o una Z nel loro cognome possono essere restituiti in questo modello ovviamente non ne abbiamo nessuno nel database quindi è così che usiamo le parentesi quadre ora possiamo fornire anche una serie di caratteri ad esempio possiamo avere O e subito prima vogliamo avere qualsiasi carattere da A ad H non dobbiamo scriverli esplicitamente come A B C D F G sarebbe molto noioso perciò possiamo digitare aperta parentesi quadra A trattino H chiusa parentesi quadra e ora eseguendo questa query otteniamo queste due persone quindi ricapitoliamo rapidamente tutto ciò che hai imparato sulle espressioni regolari in questa lezione usare l'accento circonflesso per rappresentare l'inizio di una stringa usare un segno di dollaro per rappresentare la fine di una stringa usare una barra verticale per rappresentare l'or logico e cercare più pattern usare le parentesi quadre per abbinare ogni singolo carattere indicato tra parentesi usare parentesi quadre con un trattino per rappresentare un intervallo tecnicamente MySQL supporta più caratteri speciali ma onestamente quelli che ho elencato in questo video sono quelli che utilizzerai il 90% delle volte quindi memorizzali e sei a posto molti principianti trovano la sintassi per le espressioni regolari confusionaria quindi in questo video ti darò 4 esercizi che ho progettato con cura per aiutarti a imparare rapidamente la sintassi ecco il primo esercizio ottieni i clienti i cui nomi sono Elena o Amelia nel secondo esercizio ottieni i clienti il cui cognome termina con chi ch i o si s y nel terzo esercizio fai in modo che i cognomi del cliente inizino con mat o contengano os e infine come ultimo esercizio ottieni i clienti i cui cognomi contengono una B seguita da una R o una U quindi vai avanti e dedica due o tre minuti a questi esercizi quando hai finito torna qui e continua a guardare va bene svolgiamo il primo esercizio select asterisco from clienti where nome regexp Elena barra verticale Amelia eseguiamo eseguiamo questa query dovremmo ottenere due clienti ecco qua Amelia ed Elena perfetto ora svolgiamo il secondo esercizio e cancelliamo il precedente non ci serve più select asterisco from clienti where cognome regexp chi simbolo del dollaro barra verticale s y simbolo del dollaro quindi eseguiamo questa query dovremmo ottenere questi due clienti con i d5 e i d7 il 5 ha un cognome che termina con chi e il cognome dell'ultimo cliente termina con s y ora lavoriamo sul terzo esercizio cambiando l'espressione regolare vogliamo ottenere clienti che abbiano cognomi che iniziano con mat o che contengano os quindi usiamo un accento circonflesso per indicare l'inizio della stringa che dovrebbe iniziare con mat o dovrebbe contenere os anche questo è molto semplice eseguiamo questa query e otteniamo i clienti con i d4 6 e 10 infine vuoi ottenere i clienti i cui cognomi contengono b quindi cambiamo il modello di ricerca dovremmo avere una b seguita da una r o una u ci sono due modi per scrivere questa espressione regolare possiamo usare le parentesi quadre quindi abbiamo b aperta quadra ru chiusa quadra e questo è un modo l'altro metodo è usare la barra verticale quindi br barra verticale bu sono entrambe soluzioni valide quindi spero che tu abbia risolto correttamente questi esercizi nel prossimo tutorial ti mostrerò come ottenere il record con valori mancanti in questo video vedremo come cercare il record a cui manca un attributo ti ricordo che il record sono le righe di una tabella e gli attributi le colonne bene iniziamo selezioniamo tutti i clienti del nostro database come puoi vedere il cliente con i d5 non ha un numero di telefono se guardi attentamente qui vedrai il valore null null in italiano significa nullo e indica l'assenza di un valore ovvero non è stato salvato niente in quel campo supponiamo ora che tu voglia cercare tutti i clienti che non hanno un numero di telefono magari vuoi inviare loro una mail per chiedergli di inserire il numero di telefono nel tuo portale allora come possiamo ottenere tutti i clienti senza un numero di telefono è molto facile usiamo l'operatore is null quindi digitiamo select asterisco from clienti where telefono is null ora eseguiamo questa query e abbiamo ottenuto un solo cliente che non ha il numero di telefono memorizzato come facciamo se vogliamo ottenere i clienti che hanno un numero di telefono non possiamo mettere not davanti a is null ma possiamo usare l'operatore is not null se eseguiamo la query puoi vedere nei risultati che ogni cliente ha un numero di telefono bene facciamo ora un esercizio scrivi una query per ottenere gli ordini che non sono ancora stati consegnati questa è una query molto utile che può essere utilizzata in molte applicazioni reali ad esempio supponiamo che tu sia l'amministratore di un negozio online vuoi vedere gli ordini che non sono stati ancora consegnati in modo da spedirli con questa query potresti ottenere la lista degli ordini di cui hai bisogno prima di iniziare diamo un'occhiata alla tabella degli ordini se presti attenzione vedi che alcuni di questi ordini non hanno una data di consegna e che questi ordini non hanno neanche un ID corriere che è un numero univoco per identificare i corrieri quindi qualsiasi ordine a cui manca un valore come la data di consegna lì di corriere è considerato un ordine non spedito ti ho dato un piccolo aiuto quindi ora metti in pausa il video e prenditi il tuo tempo per pensarci bene sei tornato vediamo la soluzione torniamo al nostro editor di query e scriviamo select asterisco from ordini where data consegna is null potresti anche scrivere che lì di corriere nullo sono entrambi ugualmente corretti se eseguiamo questa query otteniamo cinque ordini gli ordini 1 3 4 6 e 8 in questo video vedremo come ordinare i risultati delle tue query se eseguiamo questa query otteniamo tutti i record della tabella clienti ordinati per ID quindi avremo prima il cliente con ID1 poi ID2 e così via questo perché l'ID è la colonna d'ordinamento predefinita ti starei chiedendo ma se volessimo ordinare i clienti per qualche altro dato beh per questo possiamo usare la clausola order by prima di avventurarci nella spiegazione vorrei spiegarti perché la colonna ID è la colonna di ordinamento predefinita per prima cosa apriamo il pannello di navigazione sul lato sinistro come puoi vedere qui c'è la tabella dei clienti clicchiamo su quest'icona centrale che sembra una chiave inglese bene abbiamo aperto la tabella clienti in modalità progettazione o design mode quindi ora possiamo cambiare le nostre colonne aggiungerne di nuove cancellare quelle esistenti cambiare il loro nome ordine e tanto altro se presti molta attenzione puoi vedere una chiave gialla prima del nome ID cliente significa che questa colonna è la chiave primaria di questa tabella ma che significa nei database relazionali ogni tabella dovrebbe avere una colonna indicata come chiave primaria i valori della chiave primaria servono per identificare in modo univoco i record in quella tabella ciò significa che non possono esserci due record con lo stesso valore in quella specifica colonna nel nostro caso ad esempio non possono esserci due clienti con lo stesso ID tornando alla nostra finestra di query possiamo vedere che i valori della colonna ID cliente identificano in modo univoco ogni cliente è per questo motivo che quando scriviamo una query su questa tabella i clienti sono ordinati in base al loro ID di default ora vediamo come ordinare i clienti in base a una colonna diversa aggiungiamo alla fine della query la clausola order by seguita dal nome della colonna per cui vogliamo ordinare ad esempio nome eseguiamo la query bene ora possiamo vedere che i nostri clienti non sono più ordinati in base al loro ID ma in base al nome in ordine decrescente se invece vogliamo invertire l'ordinamento basta inserire la parola chiave DESK dopo il nome della colonna DESK è l'abbreviazione di decrescente bene eseguiamo la query e guardiamo i risultati come puoi vedere ora i clienti sono in ordine decrescente di nome possiamo anche ordinare i dati in base a più colonne ad esempio supponiamo di voler prima ordinare i nostri clienti in base alla loro provincia e poi ogni provincia in base al loro nome quindi digitiamo più colonne qui provincia nome ed eseguiamo la query come puoi vedere la prima provincia che abbiamo è Aosta seguita da Bari e poi Catanzaro a parità di provincia i clienti sono ordinati in base al nome infatti se guardiamo meglio prima abbiamo Battista poi abbiamo un altro cliente qui il tipo di ordinamento può essere inserito per ogni colonna quindi è anche possibile ordinare le colonne in modo diverso una decrescente e una crescente ad esempio quindi possiamo ordinare i clienti in base alla provincia in ordine decrescente e a parità di provincia ordinarli per nome in ordine crescente o ancora una volta in ordine decrescente ci sono vari modi in cui i dati possono essere ordinati una delle differenze tra MySQL e altri sistemi di gestione di database è che in MySQL possiamo ordinare i dati in base a qualsiasi colonna indipendentemente dal fatto che quella colonna sia nella clausola SELECT o meno ad esempio supponiamo di voler selezionare solo il nome e il cognome per ogni cliente ora possiamo ordinare il risultato in base a qualsiasi colonna in questa tabella anche se non si trova nella clausola SELECT anche se questa è una query valida in MySQL non a tutti i sistemi di gestione di database piace fantastico ovviamente possiamo anche ordinare i dati in base a un alias ad esempio qui nella nostra clausola SELECT aggiungiamo il numero 10 e assegniamo un alias ad esempio punti punti non è una colonna valida in questa tabella è semplicemente un alias per un'espressione in questo caso un semplice numero cioè 10 qui potremo anche avere un'espressione matematica più complessa non è importante la cosa da ricordare è che possiamo comunque ordinare i dati in base a un alias quindi ordiniamo in base ai punti e poi in base al nome ricordati che questa è una query valida per MySQL ma non è detto che lo sia per altri DBMS prima di passare all'esercizio vorrei precisare una cosa importante se cerchi online sicuramente troverai che è possibile ordinare i dati in base alla posizione delle colonne ad esempio possiamo ordinare per uno e due e questo si traduce in ordine ai dati secondo nome e cognome dato che è l'ordine di queste due colonne eseguendo questa query puoi vedere che i nostri clienti vengono ordinati in base al nome e a parità di nome in base al cognome questo approccio funziona ma è da evitare magari ti starei chiedendo perché devo evitarlo se è consentito beh la risposta è piuttosto semplice immaginati in futuro di voler aggiungere una nuova colonna prima di quella del nome oppure invertire l'ordine di due colonne la query che hai scritto non funzionerà più come desideri perché i dati non saranno più ordinati per nome e cognome ma per le colonne 1 e 2 qualsiasi esse siano quindi ordinare dati secondo la posizione delle colonne può produrre risultati imprevedibili qualora si vada a modificare la struttura del database cosa molto probabile nella vita reale ti consiglio di usare solo l'ordinamento basato sui nomi delle colonne ok ora che conosciamo bene l'order by facciamo un esercizio in questo database abbiamo una tabella chiamata dettagli ordine dove possiamo trovare tutte le informazioni sugli ordini effettuati bene io ho scritto una query che produce questo risultato non ti mostrerò subito la query perché è la soluzione all'esercizio e vorrei che la scrivessi tu senza sbirciare analizziamo il risultato abbiamo solo informazioni per l'ordine 2 e i record sono ordinati in base al prezzo totale dal più grande al più piccolo il prezzo totale è uguale la quantità per il prezzo singolo ad esempio il prezzo totale per il prodotto 1 è appena sopra i 40 euro ora prova a scrivere una query per ottenere lo stesso risultato quindi tutti gli elementi per l'ordine 2 ordinati per prezzo totale decrescente hai fatto? bravo vediamo insieme la soluzione scriviamo select asterisco from dettagli ordine where id ordine uguale 2 questo ci restituisce tutti gli elementi dell'ordine 2 a questo punto vogliamo ordinarli in base al loro prezzo totale quindi scriviamo un'espressione dopo la clausola order by ovvero quantità per prezzo desk come puoi vedere nella clausola order by non si deve necessariamente inserire il nome di una colonna ma si può mettere anche un alias o un'espressione matematica come questa ora andiamo avanti ed eseguiamo la query questo è il risultato eccellente per avere un risultato più leggibile aggiungiamo un'altra colonna nella select quantità per prezzo as prezzo totale eseguiamo questa query e possiamo vedere chiaramente che è ordinata secondo il prezzo totale in ordine decrescente però c'è una duplicazione nella nostra query abbiamo ripetuto l'espressione matematica in due punti quindi possiamo semplificare la nostra clausola order by usando l'alias ovvero prezzo totale e otteniamo lo stesso identico risultato in questa lezione vedremo come restituire un numero limitato di record in una query supponiamo di voler ottenere tutti i record nella tabella dei clienti in questo caso otterremo solo 10 clienti ma immaginiamo di voler vedere solo i primi 3 come facciamo? in questi casi possiamo usare la clausola limit vediamo come funziona scriviamo limit 3 facendo così limitiamo i risultati della query ai soli primi 3 clienti cosa succede se inseriamo come limite 300 ma i record della nostra tabella sono 10 in casi come questo MySQL restituisce tutti i record della tabella forse ti starei chiedendo come mai non da errore? è semplice la causa limit dice che al massimo la query deve restituire un certo numero di record in questo caso 300 clienti non che deve restituirne esattamente 300 in alcuni casi come ad esempio per la paginazione dei dati potrebbe essere utile fornire un offset cioè possiamo dire a MySQL di saltare i primi X risultati pensiamo ad un caso pratico spesso gli amministratori hanno la necessità di verificare quali sono gli utenti che si sono registrati in questo caso non viene restituita all'amministratore un'unica lista con tutti i clienti del database potrebbero anche essere milioni ma vengono paginati per semplicità immaginiamo di voler mostrare solo 3 clienti per pagina allora quali sono i clienti che verrebbero mostrati a pagina 1 ma certo 1 2 e 3 a pagina 2 avremo i clienti 4 5 e 6 e infine a pagina 3 avremo i clienti 7 8 9 supponiamo ora di voler scrivere una query per recuperare i clienti a pagina 3 come possiamo fare? dobbiamo saltare i primi 6 record e poi prendere 3 record quindi dobbiamo cambiare la nostra clausola limit e aggiungere l'offset limit 6,3 quindi 6 è ciò che chiamiamo offset e dice a MySQL di saltare i primi 6 record e dopo prendere 3 record se eseguiamo questa query otteniamo i clienti 7 8 e 9 benissimo è tempo di passare alla pratica come esercizio scrivi una query per ottenere i 3 clienti più fedeli si tratta dei clienti che hanno più punti di tutti gli altri prenditi pure il tuo tempo per pensare e metti in pausa il video bene vediamo insieme la soluzione prima selezioniamo tutto dalla tabella dei clienti e poi abbiamo bisogno di ordinare questi clienti in base ai loro punti in ordine decrescente select asterisco from clienti order by punti desk se osservi il risultato della query puoi vedere che i clienti sono ordinati in base alla loro fedeltà quindi i clienti più fedeli vengono mostrati per primi ora vogliamo scegliere solo i primi tre clienti ed è qui che usiamo la clausola limit limit 3 eseguiamo questa query e i clienti più fedeli sono i clienti conigli 5 6 e 3 prima di salutarci vorrei ricordarti una cosa importantissima ovvero che la clausola limit va messa sempre alla fine facciamo un breve riassunto abbiamo per prima la clausola select poi abbiamo from opzionalmente possiamo avere where seguito da order by e infine limit l'ordine di queste clausole è super importante se cambi l'ordine farei impazzire MySQL quindi presta la massima attenzione all'ordine quando scrivi le tue interrogazioni vedrai che con la pratica ti verrà naturale fantastico anche questa lezione è finita alla prossima ciao sono Robert Sand vuoi imparare il linguaggio esterno SQL ma non sai da dove partire oppure usi Excel per organizzare i tuoi dati e vuoi fare un salto di qualità passando ai database ma non sai come fare o più semplicemente hai capito che l'SQL è il linguaggio più richiesto al mondo ed è essenziale per la tua carriera e vuoi aggiungere questa voce al tuo curriculum ecco in tutti questi casi ho il corso perfetto per te abbiamo strutturato il corso proprio per i principianti infatti partiamo da zero e non devi avere nessuna competenza tecnica per iniziare è alla fine di tutte le lezioni ti assicuro che diventerai un mago dei database l'SQL non avrà più segreti per te conoscerai tutti gli argomenti base fino ad arrivare più avanzati sarai in grado di leggere qualsiasi query SQL anzi le scriverai in autonomia e saprai modificarle senza difficoltà sarai in grado di creare modellare i database migliorare le performance e conoscerai strumenti avanzati come le viste le store procedures i trigger e le transazioni ma perché imparare l'SQL oggi? secondo i recenti sondaggi l'SQL ormai da almeno dieci anni il linguaggio più richiesto al mondo straordinario ecco le prove guarda questi grafici imparando l'SQL cambierai drasticamente le tue prospettive lavorative infatti l'SQL non è richiesto solo nella programmazione ma è richiesto anche in settori totalmente diversi come business analysis data scientist e tanto altro in poche parole l'SQL è ovunque ma come mai dopo tutti questi anni è sempre in testa i linguaggi più usati? semplice perché il linguaggio SQL ha un potere viene usato in tantissimi database diversi infatti possiamo usarlo all'interno di MySQL Amazon Redshift Oracle Database Postgres Microsoft Access e tantissimi altri possiamo eseguire istruzioni SQL addirittura all'interno di Excel inoltre una volta completato il corso riceverai il certificato finale che potrai inserire nel tuo curriculum su LinkedIn acquistando il corso adesso hai una speciale garanzia Mago SQL soddisfatto o rimborsato quindi potrai accedere a tutte le lezioni potrai anche scaricarle se vorrai e se non ti dovessero piacere per qualsiasi motivo potrai richiedere il rimborso entro 15 giorni praticamente non rischi nulla sei protetto al 100% dalla nostra garanzia Mago SQL soddisfatto o rimborsato qui sotto trovi le lezioni del corso in anteprima gratuita guardale sono gratis nella pagina trovi la lista completa di tutte le lezioni presenti nel corso quindi che aspetti diventa anche tu un mago delle SQL SQL